Sono 7.000 emendamenti, ora una classe politica in difficoltà non fa 7.000 emendamenti. 7.000 c'erano ai tempi della prima, forse della seconda Repubblica, io li segravo tutti, però 7.000 emendamenti indicano che non c'è sufficiente valutazione del dramma che in Italia si vive. Detto questo, la patrimoniale è la passione dei ricchi per fregare i poveri. Cos'è la passione dei ricchi per fregare i poveri? Esattamente, se lei vede le elite sono totalmente a favore della patrimoniale, se vuole do anche un'indicazione, c'è nel bilancio dello Stato una posta che è destinata a ricevere i trasferimenti che uno vuole fare, volontari, un miliardario vuole donare al bilancio dello Stato i suoi soldi, mi pare sia stata fatta ai tempi da molti, e li puoi anche dedurre. Non mi risulta che nessuno dei generosi volontari con i suoi soldi l'abbia fatto. Ecco, quindi siamo grandi proclami di intendimenti e poi però si fermano lungo la strada. Se le dico la parola a Mets, Tremonti, aspetti che la faccio dire da Gualtieri, fatemelo sentire. Grazie!